Ciao a tutti e benvenuti a Primoz di Calcio. Arriva una notizia a dir poco clamorosa. Il Real Madrid non parteciperà al Mondiale per Club del 2025 e potrebbe non essere la solo squadra a boicottare la competizione della FIFA. Ad annunciare questa decisione è stato Carlo Ancelotti che a conclusione di un'intervista con il giornale lancia la bomba. Poche parole, ma chiare, inequivocabili e perentorie. La FIFA se lo scorda. I calciatori e il club non parteciperanno a quel torneo. Una partita solo del Real Madrid vale 20 milioni e la FIFA vuole darci quella cifra per tutta la Coppa. Negativo. È un fulminaccio sereno che nessuno si sarebbe aspettato. È evidente che Carlo Ancelotti, fresco vincitore della Champions League, non parli a titolo personale. Il suo pensiero non potrebbe essere altrimenti è quello del club madrilista. A questo punto è chiaro che è in corso un braccio di ferro non solo tra il Real Madrid e la FIFA, ma anche con gli altri club che dovrebbero partecipare al Mondiale o quantomeno quelli più importanti. Il problema, come sempre, è economico. Ancelotti è stato chiaro in questo. 20 milioni per partecipare a questa Coppa del Mondo per le squadre di club, che ricordo sono 32 squadre, e che si disputerà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio, sono delle noccioline. La domanda è se la FIFA è disposta a trattare. La sensazione è che la federazione dovrà necessariamente alzare l'offerta se non vuole correre il rischio che il Mondiale per club del 2025 faccia flop. La competizione, infatti, perderebbe gran parte del suo fascino senza squadre come il Real Madrid, ma probabilmente senza neanche squadre come il Manchester City, il Bayern Monaco, l'Inter, la Juventus. Si è chiaro che queste squadre sono state citate a titolo di esempio. Al momento non si conosce la posizione ufficiale degli altri club già sicuri di partecipare al Mondiale. E voi cosa ne pensate? Fa bene il Real Madrid a rinunciare alla competizione? Sono pochi 20 milioni? Si tratta di un blef per alzare il prezzo o cosa? La sensazione che avevo avuto io è che questa competizione con la nuova Formula 32 squadra piaceva ai club e in tanti avrebbero voluto parteciparvi. Evidentemente ancora non si conoscevano le cifre o chissà. Staremo a vedere chi seguirà Carlo Ancelotti e di conseguenza il Real Madrid. Io vi saluto e non dimenticatevi l'iscrizione al canale.